Porco il lema a tutti ragazzi, no scherzo, sono Alex, bello a tutti, oggi vi provo su questo video per pubblicizzare il mio secondo canale che ho appena, appena aperto, l'ho appena aperto, mi sono Alex che ho appena svegliato, no, è vero, sono i piedi dalle città, non lo vado a ritornare. Ok, meglio, e appunto vi faccio questo video per pubblicizzare il canale. Quindi, pubblicizzare il canale ragazzi, vi lascio il link, io sempre vi dirò a farlo qua sotto, e poi iscrivetevi, farò, come ho già detto nel video di presentazione nel secondo canale, un video al giorno. Un video al giorno che sia o sul primo canale o sul secondo, farò nei giorni, tipo, che ne so, oggi è in 7, dovrebbe uscire il battle pack 2 con carcardia e megalo ragazzi, ve lo dico. Se magari dal vostro articolante, ma non penso, perché nei ditoli di solito escono sempre una settimana dopo l'uscita, il picciole... Io non lo so, quindi ragazzi, anche oggi è il 27, però ho già fatto questi video, da domani, poi il 30 parto, vado al mare una settimana, con un mio amico, sì, incontrerò un mio amico, che abita appunto di vicino, e andrò al mare con lui, appunto, ci vedremo, faremo qualche scambio, qualche carteggiata qua e là, e basta, insomma. Però un video al giorno, sto dicendo, nei giorni con, che ne so, con i numeri dispari, tipo, oggi è il 27, da domani inizierò il 28, domani il 28 farò il video, sul canale 1 di Alexmatto, quindi questo, dopo domani che è il 29 farò il canale, farò il video sia su... Aspettate, domani il sabato farò il video sia su Alexmatto 1, che sul secondo canale, perché poi, come ho già detto, devo partire. E quindi farò il video appunto di... Non lo so, il quel che mi passa per la testa, farò, farò... Magari, 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 qualche apertura speciale, che registrerò là al mare, là, una nuova connessione. Dovrei avere un mega di download... No, un mega di upload, e... Non lo so, perché vado in un hotel, quindi... C'è il... Non so se è un mega di upload... Beh, adesso non mi ricordo cos'era l'anno scorso, comunque l'intorno, adesso di download, non so cos'è. E quindi, ragazzi, c'è veramente poca connessione, quindi la userò per andare su Facebook, per vedere un po' le notizie, così... Non la userò, di certo, per caricare video, è ovvio che se, magari, mi... Mi... come si dice, mi... Mi rimane, della close, del download, farò i video su YouTube. E... Se io riesco, li carico con l'iPhone, perché è più comodo, è finito, invece, mi carico la webcam, se non ho voglia. E quindi, ragazzi, vi dico di iscrivervi, questo è tutto, vi lascio il link in descrizione, e boh, a tutti.